dal vangelo secondo giovanni capitolo primo prologo in principio era il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio egli era in principio presso dio tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini e la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta venne un uomo mandato da dio e il suo nome era giovanni egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce perché tutti credessero per mezzo di lui non era lui la luce ma doveva dare testimonianza della luce veniva nel mondo la luce vera quella che illumina ogni uomo era nel mondo e il mondo era stato fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo ha riconosciuto venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto a quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di dio a quelli che credono nel suo nome i quali non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo ma da dio sono stati generati e il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come del figlio unigenito che viene dal padre pieno di grazia e di verità giovanni gli da testimonianza e proclama era di lui che io dissi colui che viene dopo di me è avanti a me perché era prima di me dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia perché la legge fu data per mezzo di mosè la grazia e la verità vennero per mezzo di gesù cristo dio nessuno lo ha mai visto il figlio unigenito che è dio ed è nel seno del padre è lui che lo ha rivelato prima pasqua testimonianza di giovanni questa è la testimonianza di giovanni quando i giudei gli inviarono da gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo tu chi sei e gli confessò e non negò confesso io non sono cristo allora gli chiesero chi sei dunque sei tu elia non lo sono disse sei tu il profeta no rispose gli dissero allora chi sei perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato che cosa dici di te stesso rispose io sono voce di uno che grida nel deserto rendete diritta alla via del signore come disse il profeta esaia quelli che erano stati inviati venivano dai farisei essi lo interrogarono e gli dissero perché dunque tu battezi non sei il cristo né elia né il profeta giovanni rispose loro io battezzo nell'acqua in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete colui che viene dopo di me a lui io non son degno di slegare il laccio del sandalo questo avvenne in betania al di là del giordano dove giovanni stava battezzando il giorno dopo vedendo gesù venire verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie i peccati del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a israele giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo ed io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di dio grazie a tutti